Ciao ragazzi, buon giovedì pomeriggio. Oggi è un video diviso in due. Una prima parte cerco di interpretare un attimino le notizie uscite oggi sul calciomercato del Milan, dall'altra facciamo un'analisi tattica, dopo aver fatto un'analisi mentale, psicologica, un'analisi tattica su perché il gioco del Milan quest'anno non decolla. Allora, pollicione se vi piace il video, iscrizione se vi piace il canale, campanella per le notifiche, iscrivetevi, non vi costa nulla, grazie. Quindi, allora, oggi abbiamo una guerra di nervi con l'aiuto anche dei giornalisti che per questione di cuore sono più di riferimento verso la Roma o più di riferimento verso il Milan. Cerco di spiegarmi. Allora, quando esce la notizia molto, molto fatta uscire, diciamo, dal mondo Roma, quindi Mangiante, quindi Di Marzio, quindi tutto l'ambiente romano, dell'offerta della squadra inglese di 30 più 5, sanno benissimo che è un'offerta che ha già la risposta del giocatore che è un no, ma la fanno uscire per fare pressione al mondo Milan. Chiaro, no? Si fa uscire questa notizia, si dà questa valutazione, si enfatizza la notizia, pur sapendo che non andrà da nessuna parte, per mettere pressione al mondo Milan. Dall'altro, al mondo Milan, fa uscire la notizia per la Roma, va bene, siamo disposti ad aspettare a luglio, tanto noi l'accordo col giocatore lo abbiamo, nel frattempo ci prendiamo quello che vorreste voi, quindi Ziyech in prestito con diritto. Diciamo che oggi la trattativa si è mossa su questi due binari paralleli, che non si incontrano mai, quindi. Il fulcro della trattativa, come vi ho detto tre giorni fa, all'inizio, è uno e uno soltanto, la volontà di Zaniolo. Se la volontà di Zaniolo è ferrea, nel voler venire al Milan e solo al Milan, la Roma dovrà semplicemente decidere se prendere i soldi che offre il Milan adesso o prendere ancora di meno a luglio. Non ci sono altre vie d'uscita. Questo ovviamente, se la volontà di Zaniolo, come a questo punto credo sia, è ferrea ed è la decisione definitiva di venire al Milan. Anche perché se lui vuole rimanere in Italia, altre squadre in Italia che possono comprare Zaniolo non ci sono. Penso di essere stato chiaro. Il Milan al tempo stesso gioca su questi due tavoli, avendo deciso evidentemente ormai che ha bisogno di mettere più tecnica sulla fascia destra, il Milan gioca su questi due tavoli. Da una parte ha la volontà di Zaniolo e la disponibilità, casomai, ad aspettare a luglio se la Roma, autolesionisticamente, decidesse di non dare il via libera per mandare Zaniolo a Milano, alle condizioni del Milan. Quindi, cosa fa? Ovviamente la Roma, dovendo tenere Zaniolo, non può andare su Zieg, si tutela facendo capire a Roma che, va bene, aspettiamo a luglio per Zaniolo, faremo un'offerta ancora inferiore a quella che abbiamo fatto adesso. Nel frattempo, prendiamo in prestito con diritto a Kim Ziyech. Non so se è la reale intenzione quella di andare su a Kim Ziyech. Penso sia più una pressione sul mondo Roma. Oggi, comunque, la partita si è giocata su questi due tavoli. Rimane il fatto, io non mi schiodo da questa convinzione, che se Zaniolo, come pare, ha deciso di venire al Milan, la Roma o scende a compromessi con il Milan, oppure se lo tiene e noi ce lo prenderemo a luglio a prezzo ancora inferiore. Mi sembra di essere stato chiaro, poi, su questo, io non voglio dare un giudizio alla trattativa, cioè al giocatore Zaniolo. Quello lo dovremo vedere sul campo. Io do un giudizio sulla trattativa, cioè su come si può evolvere questa trattativa e sul modo in cui, secondo me, intelligentemente, il Milan la sta affrontando. Adesso passiamo all'analisi tattica. È sotto gli occhi di tutti che non riusciamo a sviluppare il gioco che tanto ci piaceva lo scorso anno, no? Com'era il gioco del Milan? Il gioco del Milan era l'occupazione degli spazi, pressing alto, recupero palla alto, difesa che giocava molto alta, quindi recupero palla e tanti uno contro uno in difesa, ma a campo largo, non a ridosso della nostra aria. Questo caratterizzava il nostro gioco. Per fare questo gioco cosa serve? Serve gamba, testa, perché devi sapere lo spazio giusto da occupare, serve sintonia con i compagni, sacrificio, servono tutte queste caratteristiche. Quando le abbiamo messe in campo abbiamo ottenuto grandi risultati. Siamo arrivati allo scudetto. Quest'anno non riusciamo a fare questo tipo di gioco. Quindi, un po' non abbiamo la gamba e il motivo è perché sostanzialmente giocano sempre gli stessi, perché abbiamo perso due titolari o quasi titolari come Chessire e Romagnoli e noi li abbiamo sostituiti. quindi questo ha messo troppi minuti nelle gambe a Tomori e a Calulu e a Benassere e a Tonali che non hanno dei significativi ricambi. Questo perché evidentemente è stato sbagliato quel tipo di mercato. Quei giocatori che sono stati acquistati non sono stati ritenuti ancora pronti, quindi non hanno dato i ricambi. Se poi ci aggiungiamo gli infortuni abbiamo messo troppi minuti nelle gambe a pochi giocatori. Questo mi sembra la causa concatenante di diversi infortuni e della gamba che non gira in questo momento. Troppi minuti in pochi giocatori. Andiamo a vedere i minuti che hanno avuto i nuovi arrivati. No. Quindi qui sarà da valutare se è una questione di mercato sbagliato, di poca fiducia del mister nel lanciarli, nel dargli la possibilità. Il risultato è che ora non c'è la gamba per fare quel gioco che facevamo. Quindi non si fa il pressing alto. Se si fa si sbaglia e quindi cosa succede quando si sbaglia? Succede che la squadra avversaria ha le uscite pulite dal nostro pressing. Vuol dire che si trova automaticamente in superiorità numerica. Vuol dire che tu metti difesa e centrocampo in condizioni di dover rincorrere. quindi non giochiamo più in avanti ma giochiamo andando indietro e quando vai indietro sei in difficoltà e se trovi giocatore di qualità succede quello che è successo a Roma Domenica. Spero di essere stato abbastanza chiaro. Questo è il momento in cui non riusciamo a fare ma quest'anno siamo riusciti a farlo poche volte per i motivi che ho detto prima quel gioco che ha caratterizzato questi giocatori che ha esaltato questi giocatori. Da qui la difficoltà del mister secondo me di non riuscire a uscire perché sì ok ora probabilmente qualcosa cambieremo metteremo un centrocampista quindi giocheremo col baricentro un po' più basso e in questo momento probabilmente è l'unica cosa da fare perché perché non abbiamo nelle gambe e nella testa la forza di occupare gli spazi in avanti la forza di aggredire l'avversario subiamo le uscite a palla pulita dell'avversario quando l'anno scorso eravamo bravissimi a sporcare queste uscite ecco perché in questo momento sarà importantissimo recuperare Krunic perché è bravo nello sporcare l'uscita degli avversari sarà importante recuperare compattezza difensiva sarà importante danno la mano a Benasseria Tonali e non costringerli a correre all'indietro a rinculare con i quattro davanti che sono fuori dal gioco perché hanno sbagliato i tempi del pressing e non è facile non è facile uscire da una situazione del genere dovrà essere bravo il mister a cercare di ricompattare la squadra rimettere benzina nelle gambe rimotivare la testa perché senza quel gioco che ha esaltato i nostri ragazzi nei mesi scorsi è difficile poi ottenere i risultati perché se gli altri escono continuamente dal nostro pressing a palla pulita creando superiorità numerica il risultato è che prima o poi il gol lo prendi spero che abbiate apprezzato mi ditemi nei commenti come la pensate pollicione se vi è piaciuto il video iscrizione se vi piace il canale campanella per le notifiche buona serata ragazzi e forza Milan sempre a prescindere